Che cosa ti aspetta invece da Cassano alla Sampdoria? Guarda, è notizia di oggi. Non credevo che potesse rientrare almeno in un ambiente come la Sampdoria, anche perché erano state, sai, non so se le dichiarazioni di Ferrero e Zenga avevano un diverbio sull'acquisto di Cassano, sull'ingaggio di Cassano. C'è stato un gioco delle parti nelle quali tu dici platealmente che non è un obiettivo che vuoi, perché veramente vuoi per non alzare il prezzo sia del cartellino e dell'ingaggio, non del cartellino in questo caso perché era apprezzato, però dell'ingaggio. Si rischia però, nel momento in cui l'acquisto non dovesse andare a buon fine, nel senso che non dovesse essere proprio ideotica, quello sarà il gioco della squadra di minare quella che è la forza dell'allenatore già minata da un preliminare d'Europa Liga andato in maniera disastrosa in casa. Comunque, insomma, poi bisogna vedere qual è la sua effettiva condizione fisica, non si allena con la squadra, si allena da solo da sei mesi. A parte più si allenava con la squadra anche quando giocava perché aveva il preparato personale, quindi gli mancherà un po' il ritmo partita, credo. Comunque, sei fiducioso che possa essere una buona scelta per la Sampdoria o no? Lo spero per lui perché è un talento e in questo caso sarebbe un talento sprecato perché potrebbe dare molto a squadre, soprattutto come la Sampdoria, che chiaramente a mio avviso devono unire alla grande organizzazione collettiva anche le giocate del singolo. Infatti quando la Sampdoria ha avuto Cassano e Pazzini ha raggiunto obiettivi importantissimi. Grazie.